buongiorno buongiorno da bob gas tv oggi siamo a il triangolo verde siamo vicino peccioli e vi faccio vedere le meravigliose sculture che si trovano qua le mega sculture questa è una c'è una discarica che in questo momento in questo luogo dove sono io non è in uso ma che hanno trasformato in in un'attrazione turistica queste queste figure riemergono dalla terra avanguardia sostenibilità partecipazione sono la parola chiave che riassumono il progetto di valorizzazione e riqualificazione ambientale di peccioli e del suo territorio oltre vent'anni fa grazie anche al coinvolgimento dei cittadini che ne sono diventati azionisti la discarica di legoli è diventata un avveniristico impianto di smaltimento e trattamento rifiuti l'area ripensata come parte integrante della vita culturale e locale e oggi è un contenitore di attività culturale eventi e spettacoli tutta la zona è vegliata dalle presenze gigantesche figure umane di polimeri e fibre di cemento grazie a tutti grazie a tutti